Allora ragazzi, buongiorno, innanzitutto un buon pomeriggio come sempre Allora ragazzi oggi, anzi stamattina, tra virgolette stamattina, siamo su Clash Royale Allora ragazzi, stamattina è uscito l'evento nuovo, il torneo Sudden Death Che vabbè io non ho ancora iniziato, anche se vediamo cosa da perché io non l'ho visto Ok, va bene, questi sono ottimi, questi sono assolutamente ottimi perché sono quasi introvabili questi gettoni Va bene, ma io vi dirò almeno, no io vorrei almeno arrivare, vabbè non lo so, non lo so a quanto riesco ad arrivare Allora ragazzi, questo è comunque il deck che sto utilizzando ora, ho cambiato giusto, ecco ho messo il domatore E oddio qua cambia a volte, metto tipo la furia oppure metto lo spiritello della cura Però è un po' difficile come deck, mi dirò, è un po' difficile Anche se stavo pensando di modificarlo un altro po' però vediamo Allora, innanzitutto ritiriamo il premio Ok, questo fra 17, anzi iniziamo con le, ecco vedete qua in War ho usato il tronco che c'è Beh, ora li modifichiamo, tanto quanto manca Ok, aspettate Ecco qua Iniziamo con la War almeno Che posto stiamo? Secondi, vabbè Lo tolgo il tronco Lo spiritello, eccolo qua Spiritello qua Eh, qua raga, non lo so Che dite, metto un po' la tronco Ma sì, dai Ci sta E io direi, andiamo In War Vediamo cosa riusciamo a fare Ragazzi, c'è stata casa la voce giustamente Vabbè, oddio, mi sono svegliato un bel po' di tempo fa Però Cioè, non ho parlato per tutto quel tempo Allora, proviamo Vediamo se riusciamo a fare qualcosa Eh, buono Buono, vabbè, dai Aglia Questo potrebbe essere un bel problema Anzi, ho un'idea Aglia Eh, non ho fatto Oh, buono Buono, buono, buono Ok, meglio così Eh, raga, è stato meglio così Abbiamo perso un po' di vita Però Eh, raga Ecco, vedete Non so come counterare poi Perché non ho carte che c'è Dai No, no, no Eh, niente Vabbè, vabbè Ma c'ha Bene Eh, ma mi sa che questo c'ha un bel deck Vabbè, comunque mi ha fatto un bel po' di danni Ok Ah, vi dirò No, vabbè Qua danni me li prendo Ecco C'ha detto me li prendo No, ma questo Pecca al 14 C'è Ecco, questo è un bel problema Che poi ho visto che in questo deck Quasi nessuno utilizza La, la valchiria Cioè nel deck questo qua che sto utilizzando io Eh, vabbè Comunque, raga, questo C'è Sta a fa danni, eh Devo dire Eh, raga, questo me lo piglio sto danni Me lo piglio Non fa niente, vai Comunque è bravo il tizio Ma c'è Ma l'ha tirato un attimo Ok, vediamo se riusciamo a fare qualcosa Let's go Ah, eccolo qua Vabbè, non sarà un problema Andiamo Buono Aspettate Vai Let's go Eh, però, vedete È difficile Io non lo so Nemmeno utilizza come deck Stiamo Solo difensiva Vabbè, comunque Oddio Let's go Ok Eh, raga, ma è stata tosta, eh Ma veramente tosta È un bellissimo deck il suo Vi dirò Visto che lo devo vincere Io penso che questo sia il deck Che può fare la differenza Però se luce ha le carte di livello più alto Eh, abbiamo perso Ma credo proprio di sì Di sicuro ha le carte di livello 14 Ah, no Eh, mi so Vabbè, oddio Oddio, aspettate un po' Let's go E questi sono danni Vabbè, qui Ma non metterei nulla Onestamente Più che altro c'è L'ho un dea Aspettate un attimo Fatemi shottare un attimo Ok Vai ora Aia Meno male Meno male La maniera E qua E qua Devo per forza difendere così Let's go Ecco Forse qui Potrebbe essere un problema Aspettate Anzi no Qualche danno Secondo me lo devo far dare Che lui potrebbe mettere i barbari Devo arrivare almeno a 10 No devo Vai Vai Ok Vai ora C'ho anche la furia Ma non la utilizzo quasi per niente Eccoli là Comunque sono di livello molto alto Eh Questo potrebbe essere un bel problema Vai No Shit Facciamo così Eh Non me l'ha buttata giù Eh È toffa È toffa Let's go Ok buono Vai così Ottimo Buono Vai così Vai così Furia Furia Buono Questo danno Questo danno Aspettate Ti prego Let's go Let's go No Madonna Eh raga C'è un bel problema a sinistra Shit Uuuuh Mamma mia Questa è stata sudata Eh La vera che io non è che sto tanto bravo a giocarci Ecco Spero Questa è andata D'addio Insomma Ok Raga vi dirò Io aspetterei Un attimo che si libera qui Perché onestamente Questo Questo danno Mi fa impazzire Come modalità Allora Anzi Io direi Possiamo anche iniziare a fare il torneo Allora Qui di norma Qui dovrebbe essere Che dobbiamo buttare giù Una torre Ok Allora Cos'è il deck che c'ho Proviamo Anche se Non credo che vada bene Per questo evento Ah c'è anche il per due Aia Eh Mi sembra che sarà tosta Da qualche dannetto Eccala Oh lo sapevo Mi girerà Troppo scontato Oh shit Oh shit Oh shit Madonna Non si potrebbe essere Un bel problema Perciò ho detto Questo non va bene Come deck Dai Non veste i cazzi Vai 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 Oh shit Oh shit Jos post head Paccierte Black Gielo Ottimo Let's go, let's go, let's go Dai, questo è il nostro Let's go Let's go Buono Cioè, oddio, come tecnologo è malaccio Ci sta, ci sta Ok Ci è andata da Dio, secondo me Vabbè, secondo me abbiamo beccato pure un tizio che Zoma Ok Vediamo Sì, ma non si mettono subito Perché, aia Let's go Eh, vabbè, ma Ha fatto un bel po' di damage Dai Oh, un'altra botta Se riuscirò a dargliela Ce l'ho un'idea In realtà qua sarebbe utile una furia Eh, no, questa c'era il deck counter C'era proprio counter il deck Eh, infatti Scontato Dai Eh, sì, adesso crevati Ecco qua Mamma mia, che palle è sto deck Mi sta su con gli unipotenti a sto deck E vabbè Come perdere easy Uh Bene Primo di qua Eh ma Non si può fare Non si può fare Non si può fare E aglia 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 No non ce lo sa mai fare Eh vedete lì Vabbè ha blu Sta full difesa Ah provo a buttarmi giù anche questo Oh ma sta proprio Raga mi giusto Sta proprio full counter E vabbè Cioè è impossibile Eh vabbè Impossibile raga Cioè Oddio Che poi in realtà ho visto che il deck che sto utilizzando io Con i barbari Un paio di carte Viene anche utilizzato con Come si chiama Uh vediamo Wow che spalle Come si chiama Come si chiama Un gol E ma Un gigante Hai E Eh Che meri No Vabbè Let's go Oh, io ho fatto bei danni però Attenzione Beh, qua è easy da difendere Aspetta, non c'è un'idea Ecco Guarda che idea è una però Che idea è una Quindi? Che hai fatto? Ah, ok, interessante Mamma mia, interessantissimo Longe l'aumento? No Let's go Ah, bastardo Eh, va bene Dai Bella Bella Wow Wow Let's go Stuck E si dice E si dice Cioè, vedete Questo deck a volte È bene Cioè, vabbè Contro un coreano Vabbè A volte è utile Cioè, è forte, ok? Altre volte fa cagare Proce Vabbè, se uno si mette full counter Guarda, è molto difficile Ma è molto difficile Proprio con il quad maturato 11 c'è Ma è che fessa che Vabbè, comunque Tutto sommato Tutto sommato Cioè, cosa vabbè? No vabbè? No vabbè, non vabbè? No lo vabbè? No vabbè? Eh raga qua Ci è andato poco veloce Eh questo va anche un bel deck Che subito butti giù il nemico Eh vabbè raga Che non potevo mai sapere Quello è il problema Eh C'è la faccia eh No Dove va addirittura Dove va addirittura Dai passa Enzo E' riuscito manco a toccarlo Eh raga devo andare Si ma è proprio counter questo Eh vabbè dai Che porco dio Eh niente Eh niente Guarda qui Sto va ben perso Ah vabbè ho capito che deck sto utilizzando C'è questo è il deck Quello Che cos'era Cavalire Ecco goblin Torre infernale Razzo Vabbè scompato Proviamo ora Se raga ma costa torre infernale Non mi posso smuovere proprio Attenzione Eh vabbè Eh vabbè ma pochi danni E' un'altra E' un'altra Bella 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 giocata Bella giocata Questo lo fanno molti che buttano entrambi Cioè tutte e due insieme Prima il razzo E poi il Barile Oppure era prima il barile E poi il razzo Mi ricordo Vabbè comunque Eh raga non ce lo possiamo fare niente Purtroppo Però voglio almeno riuscire a premere Quei gettoni Questo gettone Ma che cazzo Un po' del resto non mi interessa Eccola Vabbè Vabbè Che vabbè che Vi trovo manco tanto un problema Eccola L'ho sbagliato L'ho sbagliato L'ho sbagliato L'ho sbagliato Vabbè Brutta giù Bravo Bella Bulla così forse riesco a defendere forse però uno ok dai ho difeso sì 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 poi sto buttando il domatore un po di qua percala ah finalmente Non se l'è cagato minimamente, vabbè. Eh raga, purtroppo con la pirotecnica dietro non si riesce a fare niente. Questo è il problema. No, che cazzo fai da aiutare? Dai! Let's go! No, non ce la faccio. Oh, però non aspettate di là. Bella giocata, grazie. Stoppalo! Let's go, vai! Let's go, let's go! Vedete? Dipende sempre dal deck che butti conto. Questo non è proprio male. Solo che in questo deck secondo me bisogna utilizzare comunque, diciamo, una carta difensiva. in che senso? Tipo una carta che comunque, come vi posso spiegare, che ne so, tipo, fermi di qua. Ecco, tipo l'arciere magico. Però purtroppo il fatto è sempre l'elisir un po' alta. Perché a mi piace stare un po' basso con l'elisir. Ehm, let's go. Eh, mi sa che non passo. No. No. Passo, va bene. Aspetta... Ecco, non ho capito che passava. Vabbè. Ho difeso. Vediamo se ce la faccio. Beh, ram the queen. Ecco là. Ho perso sbagliato, vabbè. Beh. Beh. Sfaltare... Sucialità la faccio. Dove i per averageddon this... Busta. buono buono così buono così buono così no vabbè vabbè buono 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 madonna madonna buono l'aspetto un attimo da scontare dai aspettate ti prego no niente eh raga me l'ha messo troppe carte mi so aspettate non ce l'ho fatta ce l'ho fatta bene o male no raga non ce l'ho fatta sapete no eh raga sta cazzo di furia mi ha rovinato a me oh hai rotto il cazzo hai rotto il coglione lo ah ii Dai No raga ma non ci credo Mi ha tolto tutte le truppe Minchia Eh vabbè raga Mi ha devastato Eh Guarda raga Ma mi ha devastato perché Per tre raga Cioè mi ha messo Non so quanti gran cavalieri Quante strese È impossibile Cioè secondo me il mio deck riesce a reggere Qualcosina ma In realtà ad una certa È impossibile Secondo me eh Vabbè questa ambrovia Bello Bella giocata Sì vabbè comunque mi sembra Eccola No porca Vabbè Vabbè Eh vabbè Grazie che ho perso Sta comunque full counter Il tizio Lo sapevo Oh Oh Let's go Let's go Let's go Buono Sì 2005 Beh sono pochi Perché battaglia annullata Vabbè Questo potrebbe essere Un dito Vabbè Questo potrebbe essere un dito Vabbè Vabbè Ho vinto Poco alla velocità Della luce Ma io infatti perciò Stavo aspettando Che mettisse qualche carta Perché comunque ragazzi Allora vi spiego Giustamente se lui Mettiva Esempio Un golem Che andava verso Testra Mettiva I barbari a sinistra Così automaticamente Lui aveva due Dielisir E non poteva fare niente Cioè oddio Se avessi avuto forse Gli scheletrini Cioè l'orda Forse lì Se sarebbe difeso Vabbè Amen Cerchiamo di prendere Almeno E dico Almeno Ecco 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 Beh comunque Almeno Almeno Mortacci Sua Beh andiamo a counter Vai Dai Niente Dai Buono Buono Bravo Molto molto bravo E' bravo Questo Ma è Dovivo Un'altra 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 Merda Me l'ho persa Cioè Scontato proprio No, ma si sa, si sa, si sa Però non fa così Eh, ma... No, non ce la facciamo, raga Dai, 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 dai Niente Uuuuh La donna che's душa Eh ma ora mi metto il congelino di nuovo Oh buono però me l'ha fatto Me l'ha fatto qui Raga sto comendo niente Non ho sbagliato Non ho sbagliato Cioè ma che cazzo Ah chi lo capisce sto gioco di merda Vabbè sti cazzi Vabbè avrei voluto almeno prendere le monete epiche qua Vabbè amene Ok allora vediamo Ok la guerra è libera Vediamo un po' Ah raga vi dirò Sono anche scordato di aprire Twitch Rip Quindi non so se qualcuno ha commentato Ma dubito Vabbè Eh raga raga questo è perso Eh sì vabbè Quattordici Cioè che faccio Vabbè ha perso vabbè Eh vabbè Cioè Ma ci prove ma Volume alto Proviamo ragazzi Mi ha laserato un attimo Una torre Eh vabbè ma Zio porco ma c'era tutta a quattordici Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè No ma oscillate L'acqua Cioè raga va Assurdo Vabbè Vabbè Ma manco il tempo di mettere le carte Subito Vabbè Vabbè Chi sta giocando qua Aspettate Cioè operarli Di nuovo Aspettate un attimo Cioè Mi sa che questo non capisce Ok Let's go Vabbè Livello 10 Dai forse si riesce a fare qualcosa Eccala Non mi piace la un'idea Ce l'ho Accala Vabbè Dai Bene o male Difesa Ci provo Eh Oh buono Let's go Ah mannaggia Oh buono Let's go C'è dai Vai Eh vabbè A me Cazzarola Questo è il mio problema Ho messo proprio i pizztrelli Come un Vabbè Però che stiamo scioltando Subito Mi fa ridere Questa roba Ma non ho congelato Un cazzo Perché lei comunque Quanto mi ammette Madonna Che non sto comendo nulla Eh ho sbagliato Sto subito Ho messo Madonna Il devasto No Raga Ce l'ho fatta Una stranzata assurda È malaserato proprio Bellaserato No malaserato proprio No ma ho fatto Quella sfidaggia Perché mi dimentico Che Eh vabbè Mi dimentico Che questa Ce la trasforma Eh vabbè Io che ho pensato Di vincerla questa Madonna Vabbè Amen Amen Con quelle carte Erano un po' Di livello alto E altre no Fatemi Vedi Non mi dimentico Se la loro logo No ma mi pare Che era Chopper Vabbè Vi dirò Raga Allora abbiamo finito Tutto L'evento L'evento L'abbiamo Fatemi Eh ma Con Jolin Che ci faccia Tanto Anzi Aspettate Qua quanti Me ne mancano Eh ma Perché ti da 50 con i gettoni Che sto pochi Eh raga 50 Che ci faccio Con 50 Più che altro Qui potrei Livellare La Sì Allora Lei la voglio Livellare Anche se 35.000 Potrei Livellare Una carta E farla Livellare 12 Se no No vabbè Facciamo così Eh le leggendari Raga Servono Ecco Però la fuorileggia Ufa Volebbe danni Io in realtà Volevo provare Eh non lo so Proprio le truppe Come le tolgo No vabbè Vai giochiamo Giochiamo qualche partita Qui Facciamo sempre Un'oretta Raga Non voglio Staccare A mezzura Stavolta Vabbè Eh vabbè Raga Ma 14 C'è un'alba Dove vado Vabbè Ecco Vedete Vabbè Le ho tolte Tutte e due Davanti Speriamo bene Speriamo bene Attimi Bella Bella Let's go Ah non l'ha preso Vabbè 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 Giusto Giusto Per togliermi Le truppe Diciamo Anzi Aspetta un attimo Dicevo Mi sarebbe giusto Per togliere Le truppe Comunque Quelle Aeree Perché Sennò Che non avrei Nulla Attenzione Una Una Buona Vabbè Che mi fai Aspettate Ricarica Buono Buono Così Buono Così Cioè Eppure lui La carta Ce l'ha Al 14 Beh Aspettiamo Vediamo Cosa fa Di solito Io non aspetto Però Vediamo Ok 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 Ecco Vabbè 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 no madonna perché questa cosa non l'avrò mai vai 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 eh raga ma come cazzo faccio però non fa così va ho capito lui che cazzo sta facendo sta difendendo ma l'ho perso eh raga ma che dovevo fanno eh cioè mi stavo caricando 20 giganti che poco cioè sto gigante a 7 è proprio rotto vabbè a me vabbè comunque raga era di livello molto alto cioè c'era tutto a 14 buono ecco là ma io ho il misdomatoio a 12 ma che faccio cioè i danni sono pochi ma non riesco a buttare giù niente quello è il problema GG bè potevo anche farci la data è bella la valchina che va avanti e dietro è bella la valchina che va avanti e dietro ecco vedete io se avessi avuto il domatoio a 14 io credo che l'avrei buttato giù quel quella quell'edificio la tesla ma forse si è arreso eh c'ho una bella idea però no non si è arreso no non si è arreso ok ok buono ma stavolta andrò così però addirittura no ho sbagliato ho buttato vabbè 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 ho buttato a random vabbè vabbè vittoria ok vabbè potevo anche attaccare adesso vabbè vabbè secondo me faceva pure meglio secondo me che mi dava più moneta comunque da quanto tempo stiamo in live allora da penso 45 minuti 48 che poi un'altra cosa che volevo dire raga ieri ho scaricato OBS sul pc raga la webcam funziona non so se si vede HD però bene o male si vede e nulla stavo pensando magari potremmo fare la live con la webcam solo che raga devo un attimo capire come devo fare perché non voglio fare live così scrause solo diciamo solo la webcam e basta vorrei comunque aggiungere qualcosina nella stream e devo anche un po' capire come funziona perché non l'ho mai utilizzato quindi non so forse lunedì se mia sorella non c'è posso fare una bella live comunque vabbè facciamo il giusto forse altre tre partite allora direi andiamo così e beh mi ha fatto bei danni e l'ho dovuto sprecare ecco qua la frana c'è un po' una rottura di coglia va bene eh quello è il problema eh raga devo questo fa danni ok la ritaglie ma questo fa proprio danni eh calla eh calla che inculare cannone vabbè giustamente non ci arriva oh let's go let's go buono oh io ho fatto più danni io oh oh e la torre va giù e la torre va giù vabbè dai vero massimo bella giocata però ah ok sono ancora live fortunatamente ah lui aspettava ok vabbè interessante però come il problema è chi c'ha c'ha due fornace sto passato a ora va tutta se fornace io non parava guarda 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 ora non mai più guarda 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 let's go let's go vai 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 così vai così proprio perché vabbè raga io sto giocando giusto per giocare ah è vero ma non so se ve lo vissi allora a parte c'è giusto qualcosina così non è solo gioco e basta allora però non so se c'è scritto no no raga perché il mio record è stato 5 mil dovrebbe essere no non è 5.637 no mi pare che era tipo 5.670 più o meno perché ho detto wow ora arrivo a 5.700 poi vabbè le ho perse tutte cioè le ho perse proprio tutte quindi vabbè rip io sono stato scambato cannone che poi è bellissimo il cannone dorato mamma mia stupendo oh bello guarda giocato vediamo ah bello beh io ho fatto più danni ah mannaggia si buttavo lo spiritello vediamo non ce la faccio a passare no vabbè mamma mia che poi fa un sono strano lo sgherro qua dovevo eh vabbè vabbè la cosa che funziona no forse sì sì ha funzionato ha funzionato oh 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 vai eh broski mi dispiace mamma mia mamma mia mamma mia let's go let's go danni 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 no no vabbè non ce la fai ma non ce la fai beh butando un po' ero roba a casa eh vabbè vabbè Ma io penso che se avessi tutto il dh14 Cioè Vitto Ok Ah vi faccio vedere anche le Le emoji che Emoji emoticon Non so come chiamarle Anzi aspettate Forse c'è scritto Vabbè provocazioni ecco Allora raga L'ultima volta che ci siamo visti Vabbè questi ce li avevo tutti Anzi no aspettate Allora mi pare questo Questo non ce l'avevo Poi Ah vabbè Questo No scusate questo Questo Aspettate No Ok Vabbè comunque Dicevo Questa secondo me è la più bella Anche se c'era Questa Che anche mi piace tanto Solo che Non ce l'avevo le monete E quindi Ma poi il resto Oddio Un'altra che vorrei questa Cioè mi piacciono Cioè mi piacciono queste Motto qua Che uno Cioè vabbè Avete capito Insomma Vabbè oddio Non credo un'altra Riusciamo a farcela Questa penso sia l'ultima Cerchiamo di vincerla Bene Siamo rovinati Siamo rovinati Siamo rovinati Siamo molto Rovinati Devo dire Molto Vabbè Ho avuto Però il bucio Di culo Che quando ho messo Il domatore Eccetera Ho già I barbari Pronti Ok Aia Vabbè Rialto Oddio Non è un problema Ok Ora potrebbe essere Dai Niente C'è crepato Madonna Madonna Che falle Ha crepato Prima Vabbè Ma Ma M'ha laserato Proprio Un cazzato Negro Bé Vabbè 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 Che è persa Ragazzi Si capisce Vabbè 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 Vabbè, non ci credo, raga. Cioè, raga, vi giuro, io pensavo di aver perso. Io pensavo di aver perso. No, raga, no, vabbè, no, questo dovrei vederlo. Cioè, questo non ha senso. Cioè, non ha senso sta partita, aspettate. Aspetta, tolgo un attimo sta notifica, è molto fastidiosa. Cioè, raga, lui ha full deck 14, tranne per il tronco, vabbè, capirai? Cioè, guardate il mio deck, c'è solo una carta al 14. Cioè, raga, io comunque penso di saper giocare, perché se non sapessi giocare onestamente con queste carte, poi alla fine c'hanno comunque due livelli in meno. Anzi, lo spiritavo anche uno. Cioè, no, secondo me me la so giocare. Perché se no, cioè, non potrei proprio competere. Però voglio vedere, la parte finale. Vabbè, qua poi, ecco, cioè, guardate qua quanto mi ha tolto. Cioè, raga, mi ha tolto quasi tutto. Però poi ho difeso. Ho difeso molto bene, secondo me. È lì, pure ho sbagliato. Non ho dovuto vedere la parte finale, raga. Ok, siamo quasi alla fine. Ok, ora. Cioè, raga, qua. Cioè, qua ho fatto proprio... Cioè, guardate qua, che cazzo. Guardate il pipistrello. Cioè, raga, ma vi rendete conto? Io poi, vi dico anche un'altra cosa. Io di solito, ecco, la scossa la uso sui pipistrelli. Però invece lì l'ho utilizzata sul... Cioè, bello. L'ho utilizzata sul... Gli scheletrini. 5,5... 5.000. Quasi 6. È meglio già il set, eh. Boh. Allora, aspettate un attimo, vi vediamo un attimo una cosa. No, 8.000. No, 8.000. 8.000. 8.000. Ah, no, ok. Ho sbagliato. Ok, vabbè, niente. Ok, raga. Sì, ma tu lo sei. Eh, vabbè. Vabbè, niente. Finalmente posso saldoarvi, raga. Niente, perché... Eh, raga, quando entrano persone mi viene difficile pure parlare. È un tappo fastidio. Lo so, perché pensano che magari lo sia rincoglione. Io devo parlare da solo, ecco. Che un po' è così. Vabbè, nulla, raga. Io vado. Ci vediamo lunedì. Raga, lunedì... Eh, non lo so. Allora, lunedì o vi porto Crash. Ero vi direte. Qual è Crash? Raga, Crash Bash. Però bisogna sempre vedere se riesco a settare tutto. Ok, non è una cosa semplice. Poi non ho nemmeno manco provato. Quindi dovrei provare. Devo vedere anche se... Diciamo se funziona bene. Come si vede, come si sente. Perché, allora... Due sono le cose. O faccio la stream con la cam. O la faccio senza. Quindi sarà anche un face reveal. Visto che... Vabbè, oddio. C'ho Instagram. Quindi potete vedermi lì. Però essendo che sulla play non c'ho la cam. Non le posso fare. Però, ecco. Diciamo che stavolta... Sarà la mia prima live con la webcam. E' una cosa abbastanza strana. Però non è una webcam della madonna. Cioè... È una webcam di... Boh, non lo so. All'epoca penso che costava forse 100 euro. Ma all'epoca sta parlando di 10 anni fa, tipo. E vabbè, nulla, raga. Io vi ringrazio. Ci vediamo lunedì. Un bacio, un abbraccio. Ciao a tutti.